Al Create Networking Day 2018 parliamo dell'impatto delle nuove tecnologie sulla complessità aziendale con Chiara Bogo, direttore marketing di Dassault System. Smart Manufacturing Digital Twin, perché usare modelli virtuali? I modelli virtuali danno la possibilità di accelerare il time to market e anche di ridurre i costi legati alla realizzazione dei prototipi fisici e vanno oltre. Grazie al gemello digitale chiamato Digital Twin anche, è possibile valutare in fase di progettazione e di sviluppo prodotto diverse alternative processuali, diverse soluzioni e andare ad analizzare e simulare per capire quella che darà i risultati migliori e che ottimizzerà il prodotto. Ma finora abbiamo parlato di Digital Twin del prodotto, è possibile anche realizzare oltre al gemello digitale del prodotto anche il gemello digitale della linea di produzione, quindi il gemello digitale della fabbrica e andare a simulare non solo il prodotto ma anche il suo processo di produzione, la linea di produzione nel mondo virtuale prima di avere pronta la linea di produzione fisica. In questo modo il mondo virtuale porta valore al mondo reale in quanto l'azienda può preventivamente valutare la soluzione produttiva, il setup della linea migliore per produrre e quindi arrivare poi in produzione avendo già ottimizzato i parametri chiave per assicurare redditività e rispetto dei tempi delle commesse dei loro clienti. Se noi consideriamo il mercato come si sta esvolvendo e le esigenze dei clienti vediamo che i clienti oggi sia consumatori che i clienti B2B sono sempre più esigenti e le aspettative crescono in termini di esperienze personalizzate e i prodotti da soli non bastano più, i clienti si aspettano che le aziende siano in grado di offrire prodotti customizzati e esperienze uniche e personalizzate che vadano incontro alle loro vigenze specifiche. In questo scenario diventa fondamentale per un'azienda essere in grado di offrire delle soluzioni a questo livello e i modelli virtuali quindi il Digital Twin giocano un ruolo fondamentale. Nell'ambito del Digital Twin noi come Dassault System la nostra soluzione è il 3D Experience Twin che è basato sulla nostra piattaforma 3D Experience. L'approccio a piattaforma è importante per assicurare la continuità agitale, abbattere le barriere tra le diverse funzioni aziendali da ideazione, progettazione, produzione fino al sales, marketing e alla manutenzione e in questo modo essere in grado di avere un modello virtuale in cui simulare queste esperienze che vanno incontro alle aspettative dei clienti.